E' aperto. Polizia di New York, ferma dove sei! Giù la pistola! Castle. Beckett. Che cosa ci fai qui? Io... Giù, giù! Metti giù la pistola! Mettila subito! Già la pistola! Va bene, d'accordo. Giù la pistola, bastardo! Calmi. Ok, ragazzi, sentite, non è come sembra. Non lo è mai. Voltati. Castle, voltati. Richard Castle, sei in arresto per omicidio.